La Regione deve nominare al più presto il Consiglio Direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane. La richiesta, avanzata dal gruppo Sì Toscana Sinistra, è stata approvata all'unanimità nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Regionale. Il consigliere Tommaso Fattori, primo firmatario della mozione, ha ricordato che da novembre è stato confermato il presidente Putamorsi, ma manca la nomina dell'organo collegiale. E non possiamo lasciare nelle mani del solo presidente, ha detto il consigliere, decisioni importanti come quelle legate al personale. Un atto di sfiducia verso Putamorsi da parte del gruppo Sì Toscana Sinistra, che in sala stampa è diventato un attacco frontale contro il presidente, accusato di pensare più agli interessi delle aziende di estrazione del marmo, piuttosto che alla protezione ambientale del parco. Insisto nel dire che il nostro giudizio è profondamente negativo sul presidente del parco Putamorsi, che il presidente Rossi ha deciso di riconfermare una volta, il quale sembra fare più spesso gli interessi dei grandi escavatori di marmo che non quelli del parco stesso. Va sempre ricordato, è un parco molto sui generis, molto a sé, perché ospita al proprio interno attività estrative del marmo. E doveva il parco servire proprio a trovare un nuovo equilibrio rispetto alle attività estrative. Invece il presidente, come Putamorsi, fa addirittura la lotta per avere cave all'interno dell'area del parco. Vediamo tutto ciò che questo comporta, inquinamento da marmetto, la distruzione di biodiversità. Il Consiglio regionale ha comunque approvato il bilancio d'esercizio 2016, che chiude con un piccolo utile, nonostante il taglio di 300 mila euro sui trasferimenti.